Ora ci siamo, manca solo l'ufficialità. Alex Cordaz a breve firmerà un contratto biennale con l'Inter dopo più di sei anni di onorato servizio a Crotone. Da vero gentleman, il presidente Gianni Vrenna, intervistato da Tutto Sport, dichiara di aver rinunciato all'indennizzo del calciatore, rilasciando in particolar modo parole di stima e affetto nei confronti dell'ormai ex numero uno degli squali. Un amore reciproco tra i due, un colpo di fulmine, degno del miglior film di Muccino. Infine, il patron pitagorico rassicura tutti. Un giorno Alex tornerà da dirigente. Questo amore non si tocca. Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più. E invece rieccoci, Bragliel Cosenza, un amore d'altri tempi. Il flirt tra il presidente Guarascio e il tecnico ex Avellino sempre più intenso. Nelle ultime ore sembrerebbe ci sia stato un riavvicinamento clamoroso tra le due parti. Questo sarebbe un ritorno gradito per tutta la piazza Rosso Blu. L'allenatore toscano ha vissuto tre stagioni con i lupi. Dal 2017 al 2020, riuscendo nel 2018 a riportare il club in serie B passando dai playoff. Lo scontro tra il presidente e i tifosi continua, ma questo scenario potrebbe calmare le acque almeno per un po'. Accantonata invece la pista Bruno Trocini. L'allenatore excelente Francavilla, Cosentino Doc, ha raccontato ai microfoni di TuttoC.com di aver interagito settimane fa con il patron dei lupi e dopo aver chiesto determinate garanzie, quest'ultimo sarebbe svanito nel nulla. Per quanto riguarda il discorso di pescaggio, la situazione resta invariata. Dopo il summit di ieri negli uffici di via Giocchino da Fiore, durato fino a tardo pomeriggio, l'US Catanzaro cambia pelle. Massimo Cerri, rescinde il suo contratto, non sarà più il direttore sportivo delle Aquile. Tanti nomi blasonati pronti a prendere la sua eredità, ma prima c'è da risolvere il nodo allenatore. Antonio Calabro avrebbe espressamente chiesto delle garanzie alla società, sia tecniche che personali. Il club giallorosso sarebbe disposto ad assecondare le sue richieste, ma attenzione alla corte di Triestina e Feralpisalò, pronte a fare carte false per l'allenatore di Melendugno. Appuntamento rinviato alla prossima puntata. In queste ore la regina starebbe lavorando sul fronte mercato, in particolare in uscita. Tanti giocatori amaranto con le valigie in mano, tra tutti il difensore Rossi e il portiere Farroni, contesi da molti club di Serie C. Stesso discorso per il centrocampista Rolando e l'esperto terzino destro Garufo. Ci sarebbe da risolvere anche il nodo Mastur. L'ex primavera del Milan non rientrerebbe nei piani di società e allenatore. Un altro che potrebbe dire addio è Jeremy Menetz. Il francese avrebbe alcune richieste all'estero, ma l'ultima parola spetterà al mister Aglietti.